Musica Seconda edizione di Ora Tg, ben trovati, apriamo con la cronaca, andiamo in provincia di Ragusa, a Vittoria, dove un ex collaboratore di giustizia è stato ucciso, è stato freddato a colpi di fucile. Il corpo ritrovato è in una strada periferica del comprensorio ebleo. Era una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine arrestato quattro mesi fa per diversi furti nelle campagne del ragusano, compiute insieme con altri due vittoriesi. Ucciso a Vittoria in provincia di Ragusa, l'ex collaboratore di giustizia Orazio Sciortino, in precedenza appartenente alla clan mafioso Carbonaro Dominante. Il corpo dell'uomo è stato rinvenuto con evidenti segni di violenza sul collo, in un appezzamento di terreno vicino alla strada provinciale che collega la stessa Vittoria con Santa Croce Camerina. È stato un passante ad avvertire la polizia e dalle prime ricostruzioni. Pare che sul corpo di Sciortino siano presenti ferite compatibili con colpi d'arma da fuoco. Sciortino, 50 anni, è stato collaboratore di giustizia. Rivelò i vari aspetti della mafia locale e dei suoi rapporti con quella gelese, dando un importante contributo per la ricostruzione di vari omicidi, sino alla strage di San Basilio di Vittoria, avvenuta il 2 gennaio del 1999, quando all'interno di una stazione di servizio furono uccise cinque persone. Sull'omicidio conducono le indagini alla squadra mobile di Ragusa del commissariato di Vittoria. Dall'espezione cadaverica da parte del medico legale è emerso come Sciortino e si è stato attinto da alcuni colpi di fucile al colle dal torace. Nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia che dovrà chiarire meglio i contorni della vicenda e stabilire la matrice mafiosa o meno, tra le ipotesi al momento al vaglio, anche quella di un possibile regolamento di conti tra la manovolanza locale per la spartizione di qualche bottino relativo a furti o rapine. Il capo mafia ha continuato a comandare anche dal carcere, una volta tornato libero, all'inizio di quest'anno ha ripreso le retini del mandamento. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un provvedimento di fermo per 11 persone, tra vecchi e nuovi capi gregari del mandamento di San Mauro, Castelverde, Regno in contrastato della famiglia Farinella. Le persone fermate nell'operazione Alastra sono accusate a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, trasferimento fraudolento di beni, corruzione, atti persecutori, furta gravata e danneggiamenti in Sicilia, Lombardia e Veneto. I carabinieri hanno documentato con le immagini le varie fasi delle estorsioni, dei danneggiamenti e oltre che la corruzione con funzionari pubblici si tratta di una grossa operazione che ha visto impegnati nell'attività diverse decine di carabinieri del comando provinciale palermitano. Rapinarono in casa un anziano parente minacciandolo di morte, arrestati dai carabinieri. Due fratelli erano stati riconosciuti dalla vittima. Aggredito nel suo letto in piena notte e minacciato di finire bruciato vivo se non avesse consegnato i suoi preziosi ai rapinatori, ma non erano esattamente degli sconosciuti. I carabinieri hanno fatto luce su quanto accaduto ad un 93enne a Floresta nel Messinese, fondamentali le telecamere della zona ma anche la denuncia della vittima. L'anziano conosceva i suoi guzzini, si erano presentati anche a volto scoperto, erano due lontani parenti aiutati da un terzo complice. In manette dopo quattro mesi sono finiti i fratelli Nunzio e Giuseppe Pagliazzo di 51 e 65 anni, accusati di rapina pluriaggravata in concorso. A coordinare le indagini dei militari di Patti e Floresta è stato il sostituto procuratore Alice Parialò. Sono stati ricostruiti tutti i passaggi della violenta rapina avvenuta lo scorso febbraio all'interno della casa dell'anziano. Il poveretto in un primo momento non avrebbe rivelato l'identità dei due volti noti per timore di ritorsioni, trovando il coraggio di raccontare tutto e superare ogni remora solo con l'aiuto degli investigatori. L'anziano, che da circa un anno era rimasto vedovo, viveva da solo. Quella notte aveva udito strani rumori provenire dal piano terra ritrovandosi di fronte tre uomini. Due dei banditi, infatti, col cappuccio sollevato ma col viso scoperto, si sono avventati sulla vittima senza neppure consentirli di alzarsi dal letto, mentre un terzo complice, non ancora identificato, rovistava la casa. A questo punto le minacce. I malviventi erano poi fuggiti con un magro bottino, un paio di orecchini d'oro della moglie della vittima e 400 euro in contanti. I filmati, poi, hanno rivelato la presenza dei fratelli Pagliazzo in città, proprio in quelle ore. Adesso si trovano nel carcere di Barcellona, Pozzo di Gotto. La Sicilia è tra le nuove regioni d'Italia che fanno registrare nuove vittime per il coronavirus nelle ultime 24 ore. Cambiamo dunque pagina. Nell'isola si sono verificati un decesso e due nuovi casi di contagio per un totale di 128 attuali positivi. La struttura del commissario ha deciso di incrementare il numero dei tamponi per contrastare il virus. Nelle prossime settimane saranno messe a disposizione della regione siciliana. Oltre 1.027.000 kit molecolari che consentiranno di effettuare entro dicembre 532.104 tamponi in più rispetto a quelli che sono già previsti dalla regione. I tamponi di oggi sono stati 2.521, sono ricoverati. In Sicilia 22 persone, meno 2 rispetto a ieri. In terapia intensiva ce ne sono 3. Il dato è uguale a quello di ieri. Il totale dei deceduti, con una persona che purtroppo è morta nelle ultime 24 ore, sale a 282. Mentre i casi totali nella nostra isola sono 3.080. E noi andiamo avanti, parliamo di buoni spesa. Si leggono a doppio filo con il coronavirus. C'è attesa per i tanti catanesi che non hanno ricevuto i buoni spesa dell'emergenza coronavirus. Per i coupon con fondi regionali. A breve sarà pubblicato il bando. Ha assicurato questa mattina l'assessore ai servizi sociali del comune di Catania, Lombardo. Buoni spese e sussidi per l'affitto. Nuova protesta questa mattina a Catania. Le famiglie che dallo scorso mese attendono risposte sono per la maggior parte quelle rimaste fuori per l'assenza di fondi statali e che adesso confidano nel bando dei comuni per l'attribuzione delle somme comunitarie predisposte dalla regione. Sono tornate a presidiare l'assessorato ai servizi sociali di via Dusmet. In mattinata anche l'incontro con l'assessore Giuseppe Lombardo che ha ribadito quanto già dichiarato nei giorni scorsi. A giorni il bando, intanto, tra file burocratiche e mancanza di supporti per accedere ai servizi online c'è chi si trova in gravi difficoltà. Come Giovanna Miano, 40 anni, madre di un bambino di 6, operato al cuore. Per lei solo 400 euro, 100 già ottenuti per spese farmaceutiche. I rimanenti per l'acquisto di prodotti alimentari ancora bloccati. Perché è un bambino piccolo, operato di cuore, e quindi mi sono fatto l'ascolta di tutti i medicinali per lui. Quelli della spesa invece non mi sono dato nessuna carta, né a casa. Ho fatto richiesta per attivare tramite telefoni buoni, è invece bloccata. Il servizio clienti se ne è lavato le mani. L'incontro di questa mattina è stato chiarificatore sotto certi aspetti. Per altri bisognerà comunque ancora attendere. Noi abbiamo su 6.398 utenti beneficiari effettivi del Buono Spesa Nazionale un dato di circa 50 persone che non hanno ricevuto la card per un semplice motivo. Per il fatto che non sono stati trovati nel domicilio, che hanno dichiarato in sede di domanda. E quindi alcuni di questi già hanno ritirato la card presso il COC, cioè presso l'oposizione civile. Altri, di cui ho avuto notizia in questa riunione di oggi, verranno a portare qui appunto la lista degli utenti che non hanno ricevuto la card e con le verifiche del caso che dobbiamo fare poi siamo nelle condizioni di dare loro le card. Il Buono Spesa Nazionale si alimenta con fondi nazionali, il Buono Spesa Regionale si alimenta con fondi di provenienza comunitaria. E come tale richiedono un meccanismo di avvio della misura stessa di verifica delle condizioni che sono completamente diverse e che possono quindi comportare tempi più lunghi nella risposta. Lo abbiamo spiegato più volte e lo abbiamo spiegato anche oggi. Dobbiamo appunto dare priorità a quei soggetti che non hanno ricevuto il Buono Spesa Nazionale ma comunque tenendo conto che l'avviso della Regione ci pone una serie di requisiti molto chiari, netti e precisi ossia quelli di escludere dal beneficio coloro che percepiscono forme di sostegno pubblico. Mi riprometto una volta che noi pubblichiamo l'avviso nei prossimi giorni, questioni di pochi giorni e abbiamo una contezza di quello che è il quadro dei richiedenti anche in termini appunto di condizioni reddituali che presentano ovviamente quelle risorie non sufficienti e lì ci faremo carico di una proposta alla Regione per poter allargare le maglie di questa misura e renderla fruibile anche a coloro che percepiscono forme di sostegno pubblico. I reati ambientali sono sempre perseguiti dalla legge, dalle forze dell'ordine ma si prosegue però nel corso degli anni la nostra Regione è sempre stata purtroppo nel podio delle Regioni appunto segnalate per il maggior numero di reati ambientali in zona marina purtroppo accade anche nel 2019 secondo il report di Lega Ambiente che non dà un bel quadro in realtà di quanto è accaduto nei mesi scorsi sulle coste della nostra isola. 2627 reati contestati dalle forze dell'ordine di controllo nel 2019 nella nostra isola che secondo l'indagine Mare Nostrum di Lega Ambiente si piazza al terzo posto in Italia per reati ambientali marini. La Sicilia è preceduta solo dalla Campania con un numero quasi doppio di reati per la verità e dalla Puglia inquinamento del mare, sversamento di cemento, pesca illegale. Le denunce e gli arresti in Sicilia per i reati legati al mare nell'anno trascorso sono stati 2344, oltre 600 i sequestri di cui 268 per cemento illegale. L'abusivismo edilizio nelle coste per Lega Ambiente è dunque il nemico principale della natura e del mare. Il bene primario dell'isola che viene citata più volte nel dossier con esempi poco edificanti dalla Scala dei Turchi, di Real Monte, a Lampedusa, alle Olie, dove purtroppo l'abusivismo edilizio dice l'associazione di casa. Nel Catanese destra preoccupazione la situazione nell'oasi del simeto, nonostante le demolizioni fatte dal Comune e dalla Procura negli ultimi anni perché sarebbero stati rilevati nuovi ed eclatanti abusi. A Carini invece l'amministrazione comunale ha avviato un lento ma continuo progetto di liberazione del lungomare dalle case abusive e questo è citato come esempio positivo. Dopo molti anni inoltre le ruspe si sono messe in azione a Lampedusa, la maggiore delle pelagie, dove per decenni, ricorda Lega Ambiente, si è costruito senza regole per beneficiare dal proprio privato angolo di paradiso. E allora si parte per le vacanze, moltissimi trascorreranno il periodo di ferie in case affittate con transazioni sul web. La truffa è però dietro l'angolo e per tale motivo in collaborazione con delle associazioni di categoria, la Polizia Postale ha barato anche quest'anno alcune regole per non incappare in cocenti dispiaceri. Fare attenzione alle foto sin troppo patinate, chiedere la descrizione completa dell'immobile. Sono solo due delle otto regole d'oro che la Polizia Postale, di concerto con l'Unione Nazionale Consumatori e Subito.it, ha dato alle stampe anche quest'anno per evitare truffe negli affitti della casa vacanza, sempre più immediati gli affitti da transizione sul web. Piccoli strumenti concreti in grado di sviluppare comportamenti virtuosi, un supporto celere e necessario per scegliere la propria casa vacanza in sicurezza con poche e semplici regole da applicare in fase di ricerca e prenotazione dell'alloggio prescelto. L'utilizzo del web è infatti in realtà sempre più consolidata, una grande opportunità e per questo motivo la Polizia Postale vuole essere accanto ai cittadini con un'azione congiunta rinnovata nel corso degli anni che tuteli gli interessi dei consumatori di concerto con l'Unione Nazionale Consumatori e Subito.it. In un momento, quello attuale, certamente topico per le prenotazioni della stagione estiva. I consigli che noi abbiamo dato, ripeto, sono consigli di prudenza. Partiamo dalle foto, dalle immagini, cerchiamo di avere quante più immagini possibili, verifichiamole anche sul web. C'è la possibilità tramite Google di vedere se queste immagini già risiedono anche su altri siti e quindi capire se non sono state rubate il classico copia e colla. Avere maggiori dettagli e visitare virtualmente anche la casa che si vuole affittare. Streetview ne è un esempio. Contattare direttamente il venditore chattando sulla piattaforma di acquisto del servizio oppure telefonandogli, meglio ancora se il telefono è un telefono fisso. E poi veniamo anche al prezzo. Prezzi eccessivamente ribassati dovrebbe essere già un campanello d'allarme. La caparra viene richiesta ma mai superiore al 20%. E poi documenti. Non inviamo dei documenti così prima di qualsiasi atto di persona perché quei documenti, passaporto, carta d'identità, potrebbero poi essere utilizzati per fine illecito. E' sempre meglio incontrarlo il proprietario dell'appartamento. E se dobbiamo fare un versamento accertiamoci che l'Iban sia un Iban italiano. C'è la possibilità tramite il web, Iban Calculator è uno dei software di libero utilizzo, di verificare anche la banca di appoggio. Massima attenzione dunque ed eventuale denuncia tempestiva del tentativo di truffa. Chiaramente se nonostante tutto si finisce nelle reti di una truffa, la denuncia tempestiva è importante perché ci potrebbe dare l'opportunità anche di recuperare il mal tolto. Intanto a Catania l'amministrazione pogliese ha stipulato una convenzione con Wonderful Italy, network nazionale per l'utilizzo a fini turistici di immobili di civile abitazione, che impegna la società a riscuotere e riversare al comune l'imposta di soggiorno in modo automatico, prevalentemente proprio per le case vacanza. La convenzione prevede anche che l'importo sia uniformata a 2 euro per persone per notte fino a 4 pernottamenti, agevolando così la riscossione e il riversamento nelle casse comunali in maniera diretta, quale azione preventiva dai tentativi di elusione o evasione dell'imposta. L'accordo prevede anche opportunità di sviluppo di azione e promozione co-marketing congiunte per la valorizzazione di Catania come destinazione turistica. Torniamo in cronaca. La sovraindendente a beni culturali di Catania, Rosalba Pambini, è stata rinviata a giudizio dal GIP del Tribunale di Siracusa per abuso d'ufficio, minacce e violenza di incaricato di pubblico servizio. Secondo la procura retusiala Pambini, quando era sovraindendente a Siracusa, avrebbe avuto atteggiamenti prevaricatori nei confronti di altri funzionari, in particolare del dirigente dell'unità operativa sezione per i beni archeologici, che sarebbe stato demanzionato. Pambini avrebbe avvocato a sé tutte le competenze relative al rilascio e al diniego dei provvedimenti. Secondo l'accusa, l'ex sovraindendente di Siracusa avrebbe esercitato pressioni anche su un'altra funzionaria, costringendola a firmare una relazione dopo un sopralluogo avvenuto nell'agosto del 2017 a Vendicari, in modo che non fosse menzionato l'elevato rischio archeologico di alcuni lavori. Questa l'accusa per il rinvio a giudizio di Rosalba Pambini. Ancora cronaca, una decina di piante di cannabis indica coltivate in vaso ed alte tra gli 80 e i 150 cm sono state trovate a Catania dai carabinieri, in un terreno demaniale vicino ad alcune abitazioni in via Altavilla, nella zona del villaggio di Usmet, i militari hanno anche sequestrato alcuni flautoni di fertilizzante e materiale per l'irrigazione delle piante. Voltiamo pagina, avrebbe dovuto essere consegnato nell'ottobre del 2018, ma il palazzo di cemento di Librino rimane ancora oggi chiuso. Oggi si tina per chiedere l'ultima azione dei lavori. Completare l'impianto antincendio e l'ascensore, avviare la sistemazione dei piani sottostanti, da adibiria d'uffici e alle sede delle associazioni di Librino, assegnare gli alloggi alle famiglie con criteri di trasparenza ed equità, poi ancora, sino alla consegna degli alloggi, il potenziamento del servizio di guardiania per scongiurare qualsiasi tentativo di occupazione. Il palazzo di cemento avrebbe dovuto essere completato entro l'ottobre del 2018. Ritardi che si sono susseguiti nel corso degli anni, ad oggi vedono il palazzo simbolo del degrado del quartiere di Librino ripristinato dall'amministrazione comunale, ancora chiuso ai suoi legittimi occupanti. La gran parte dei lavori, 13 milioni di euro per la sistemazione del palazzo ed uno stabile sempre ricadente a Librino, è stata già completata. Rimane poco, ma questo basta per bloccare ancora una volta l'assegnazione. Oggi siti in congiunto del Sunia e delle rete delle associazioni che chiedono all'amministrazione un tavolo tecnico per verificare il da farsi e definire una tabella di marcia che non può se non che essere cedere. Naturalmente noi abbiamo già avuto una serie di incontri, è da due mesi che incontriamo l'assessore, la commissione lavori pubblici. Adesso, alla luce anche del sit-in e del fatto che tante famiglie cominciano ad affidarsi, a sperare che anche con il nostro intervento succeda qualcosa di buono, chiederemo un ulteriore incontro alla presenza dell'amministrazione e dei direttori del patrimonio e dei lavori pubblici. Perché intanto non vogliamo un rimpallo di responsabilità e desideriamo che ci si dica quanto si può finire e come? Perché oggi il ribasso dovrebbe comportare che il problema resti alla ditta. Però la ditta non può... insomma, dobbiamo uscirne da questo equivoco perché se no continueremo a essere in queste condizioni e temiamo che il palazzo si degradi o venga rioccupato. La rete delle associazioni e la piattaforma per librino danni si battono nel quartiere. Da molti anni persone regolari in graduatoria che temono giustamente che il palazzo venga occupato abusivamente perché se l'impresa se ne va è chiaro che diventa di libero accesso e quindi si ritroverebbero di nuovo per l'ennesima volta scavalcate dagli abusivi. Ma io dico una cosa in più, noi come rete delle associazioni che sono in questo quartiere, che lottiamo sempre per far completare i cantieri aperti. Ci siamo occupati del San Marco, del Campo Sant'Odoro, di tutte le strutture. Ecco, noi non vogliamo più permettere a nessuno l'utilizzo negativo di questo quartiere. I cantieri aperti devono essere finiti, non è più possibile allungare, non è più possibile lasciare all'incuria dei vandali perché veramente quando la politica deciderà che la periferia è parte integrante di una città e allora forse potremmo avere un poco di luce in questo quartiere. Noi lottiamo a mani nude, non abbiamo altri mezzi, però c'è un silenzio assoluto da parte delle istituzioni, ma di tutte le amministrazioni che si sono succedute. E adesso noi torniamo ai presunti illeciti sulla nomina del ragioniere generale del Comune di Deci Catena, il Sindaco Nello Oliveira, i nostri microfoni, in replica al consigliere di opposizione Davide Quattrocchi. Dimostrerò di aver agito correttamente nei termini di legge. Il Sindaco di Deci Catena, Nello Oliveira, in replica al consigliere comunale di opposizione Davide Quattrocchi in merito alle contestazioni della Corte dei Conti in relazione all'incarico di ragioniere generale, secondo la Procura Contabile, si profila un danno erariale di 148 mila euro, insolito con i componenti della giunta in carica all'epoca dei fatti, il 2017. Si tratta comunque di un provvedimento in cui il Pubblico Ministero è chiedere contro deduzione prima di avviare un eventuale procedimento a carico dei politici coinvolti da presentare entro e prossimo 12 luglio. La notizia che sarebbe dovuta restare riservata e trapelata, le opposizioni hanno trovato spunto per criticare l'operato di Oliveri e sollevare dubbi sulla correttezza amministrativa degli atti di nomina da ragioniere generale, anche a seguito della situazione contabile dell'ente che presenta diverse criticità di cassa e impegna il Comune a seguire precise direttive. Oliveri non risulta essere indagato e chiarisce. Mi permetta di fare un chiarimento, secondo me dovuto, da quando esposto ieri nel vostro servizio televisivo. Intanto non c'è nessuna indagine in corso e il Sindaco non è indagato, questo lo dico per dovere di cronica e di giustizia. C'è un accertamento, c'è un procedimento di controllo aperto da parte della Procura della Corte dei Conti dove chiede, e nello specifico chiede a me, delucitazioni in merito all'assunzione a tempo determinato fatta nel 2017 del dottor Giovanni Bella. Io ho tempo fino a 12 luglio per rispondere a queste presunte contestazioni, infatti l'atto si chiama infito a dedure e io sto deducendo, provvedendo ad infiare queste note di chiarimento. Siccome sono convinto e sicuro della bontà dell'atto e regolarità di tutto, quindi io provvederò a infiare questi documenti e spero che poi dopo si possa chiarire il tutto. Sono anche contento che la Corte dei Conti ha messo mano in questo procedimento perché girano parecchie voci di fantasia e ognuno costruisce i propri castelli. Voglio dire, siccome la giustizia non è opinabile, la giustizia è giustizia e la giustizia è contabile, è giusto che faccia chiarezza. Il dottor Giovanni Bella era stato assunto a tempo determinato e sino al concretizzarsi di tutta una serie di atti propedeutici che dovevano essere attivate per riportare la normalità contabile in questo ente. Normalità che mancava da tantissimi anni per tanti motivi noti a tutti di cronica amministrativa e in qualche caso anche di cronica nera. Quindi chiariremo questo aspetto come giusto che sia, torneremo serene e tranquille e guardiamo avanti con la nostra serenità di sempre. La richiesta è di 150 mila euro per danni errariali, almeno così scrive il Pubblico Ministero della Corte dei Conti. Ma se il 3 marzo il Comune accerta il dissesto dell'ente, come mai non è stato licenziato prima il Regione generale, visto che c'è anche una certificazione da parte del Consiglio Comunale, perché si diceva che se si accertava un danno strutturale il Regione generale sarebbe stato licenziato. Non è proprio così. Diciamo che a quella data il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il rendiconto 2018 dove è emersa la massa debitoria dell'ente. Occorrevano fare una serie di atti successivi affinché si completasse la regolarità contabile e finanziaria dell'ente. Tutto questo è stato fatto. Daci Catena, Daci Reale, fermata Cappuccini, pronto il progetto definitivo della stazione ferroviaria in centro. A settembre il passaggio in Consiglio Comunale, poi a dicembre il via ai lavori. Il progetto definitivo della fermata Cappuccini di Acireale è stato trasmesso dall'FI, che lo ha inoltrato ai Ministeri competenti delle infrastrutture e dell'ambiente per le valutazioni di merito e alla sovrintendenza etnea in quanto il sito è sottoposto a vincolo paesaggistico. A settembre approderà il Consiglio Comunale. Dentro il prossimo dicembre, almeno di intoppi, avranno inizio i lavori di realizzazione della fermata ferroviaria a due passi dal centro storico. Opera che modificherà radicalmente la mobilità e cittadina, con benefici negli spostamenti dai verso il capo leggo etneo e collegamenti con la rete metropolitana sino all'aeroporto di Fontana Rossa. L'iter burocratico, almeno in questa fase, ha superato tutti gli aspetti tecnici necessari. L'assessore ai lavori pubblici, Carmelo Grasso, ha completato quanto di sua competenza e si dice fiducioso dell'approvazione definitiva del progetto nei termini previsti. Devo dire che oggi è una giornata molto importante per la città di Acireale perché il progetto definitivo consegnato ad RFI è stato trasmesso al Ministero dell'Infrastruttura, al Ministero dell'Ambiente e alla sovrintendenza per i pareri di competenza. Questo vuol dire che siamo nella fase pre-finale perché superato questi pareri il Consiglio Comunale si approprierà del progetto e una volta che sarà deliberato dal Consiglio Comunale si potrà dire che i lavori da lì a qualche mese potranno iniziare. La stazione Cappuccini di Acireale e tutto il sistema integrato dei collegamenti viari impegna una spesa complessiva di circa 17 milioni di euro ripartita tra la regione siciliana e i fondi comunitari di agenda urbana. Noi abbiamo lavorato con un progetto di pianificazione che vede sul nodo Cappuccini un investimento di 17 milioni di euro fra fermata, collegamento pedonale e parcheggio multipiano più una pista ciclabile che si connetterà proprio con questo polo intermodale più il terminal bus, quindi ritengo che Acireale da qui a qualche anno possa vedere i frutti di questo lavoro e devo dire sono quelle opere infrastrutturali necessarie affinché il problema, il sistema e la mobilità possa veramente decollare e possa far ottenere risultati concreti. E' presentato da Acireale il nuovo coordinamento comunale di Forza Italia da Acireale, il partito si riorganizza in vista delle prossime sfide elettorali e lo fa mettendo in campo volti nuovi. A capo della rinnovata segreteria locale è stato nominato Alfio Catalano, ex funzionario comunale, vice e l'avvocato Maria Angela Pappalardo. La presentazione ieri in corso Umberto 161 presso il nodo locale in attesa di una sede ufficiale alla presenza del commissario provinciale Marco Falcone, del vice Massimo Pesce, del consigliere comunale Francesco D'Ambre e del dirigente provinciale Pippo Torrisi. Attivisti militanti azzurri e comuni cittadini hanno preso parte l'appuntamento. Riorganizzarsi nei territori per far sentire forte la voce di Forza Italia ma soprattutto per far sentire forte la voce del buon governo, laddove siamo al governo e di una proposta politica seria alternativa laddove siamo all'opposizione come qua a Acireale. Lo faremo con i nostri rappresentanti dal dirigente provinciale Pippo Torrisi ma lo faremo anche col nostro consigliere comunale Francesco D'Ambra e poi il direttivo che stiamo formando. con Alfio Catalano ma anche con la nostra Mariangela Pappalardo come vice commissario locale che rappresenteranno assieme a tutti gli altri del nostro direttivo il nuovo nucleo propositivo perché Forza Italia possa tornare ad Acireale nella parte accese più forte di prima e soprattutto più radicata e più propositiva. In questo senso e con questo spirito vogliamo costruire il partito ma lo vogliamo fare nell'interesse degli accesi e dei siciliani. Riorganizzare il partito nella città in cui Forza Italia ha avuto un peso specifico nel governo con i due mandate al sindaco Garozzo e la costante presenza di propri esponenti in consiglio comunale ripartendo dalla base. Questa volta anche noi ci stiamo scommettendo, tutti gli amici in effetti hanno avuto questa fiducia sul mio nominativo, spero di non deluderli, spero che il nostro partito sia presente nel territorio e nei territori della Cese, noi ce la metteremo tutta, saremo vicini a quello che è comunque l'organizzazione provinciale e regionale e anche nazionale, speriamo di farcelo, d'altra parte Forza Italia su Acireale ha sempre avuto ottimi risultati, speriamo di fare bene anche questa volta. A Acireale è anche il deputato all'Ars Alfio Papale che ha sottolineato l'importanza di ascolto dei territori avviando un giusto percorso di relazioni con la gente e i loro bisogni. I territori vanno attenzionati, ogni territorio ha dei problemi da risolvere, è giusto che la gente si relaziona con i deputati in maniera tale che i deputati possono poi realizzare quelli che sono i loro progetti politici. Rimaniamo ad Acireale dove si è aperta una vistosa buca in via Galatea, è stato il cedimento di una basola in pietralaviche in corrispondenza di uno tombino a causare la piccola voragine all'incrocio con via Ganci. La zona è stata messa in sicurezza, gli operai del comune, dovremmo vedere le immagini, hanno transennato l'aria attorno alla caditoia. È stato istituito il divieto di sosta dal lato opposto della strada per evitare il restringimento della carreggiata, così come vedete dalle immagini che sono state girate nel pomeriggio di oggi e che documentano quanto sia pericolosa questa piccola voragine che si è aperta. È una strada importante ad Acireale per quel che riguarda il transito veicolare, atteso che si tratta di una delle grandi vie di comunicazione del centro storico in direzione sud-nordo. Rieccoci in studio dopo la pubblicità, ma solo per i saluti finali, infatti dalla redazione non ci sono notizie nuove, dunque ci fermiamo. Termina la seconda edizione di Ora Tg che avete visto sul canale 89 del digitale terrestre in Sicilia Direttivo, che avete seguito sul nostro sito internet e sui canali social della nostra emittente televisiva. Prossimo appuntamento con Ora Tg domani alle ore 14. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento di serata a voi tutti. Questo primo giorno del mese di luglio presenta il suo biglietto da visita all'insegna delle migliori prospettive. Cielo splendente su tutta la Sicilia. I mari sono calmi. Temperature esistemente da quelle estive con 23 la minima e 36 la massima a Catania, mentre le temperature massime si raggiungono in Sicilia da Grigianto e a Siracusa con 32. iscriviti al nostro sito internet. ca riguarda il nostro canale se vuoi